Oggi ha dovuto subire quello che tutti abbiamo visto e penso possiamo immaginare la notizia di quel genere per una persona in vista come lui, con il lavoro che fa, comandante di una compagnia, è stata davvero pesante. Su di lui, comandante della compagnia dei carabinieri di Bibiena, una delle accuse più terribili, forse ancora di più se tocca un militare, detenzione di materiale pedopornografico. Un incubo personale e professionale lungo un anno dal quale oggi il capitano Giuseppe Barbato si è risvegliato con l'archiviazione del caso. Per lui è stata una liberazione, anche se, come possiamo immaginare, per noi era un esito scontato. Tutto era iniziato il 6 ottobre 2023 a seguito di una segnalazione di Google. File di natura pedopornografica sarebbero stati rilevati nei suoi account, da qui l'avviso di garanzia. I file che lui sicuramente ha intercettato, ma esclusivamente per motivi professionali. Dagli accertamenti della postale di Firenze però non emerse nulla, medesimo risultato anche dalla coppia forense dei dispositivi, nessuna traccia del materiale segnalato. Non è stato trovato nulla, tanto che la richiesta di archiviazione del PM ha sottolineato che non sussisteva alcun elemento dell'ipotizzato reato. Quindi in fin dei conti stiamo parlando e abbiamo parlato per mesi di una questione totalmente inesistente ed è questo che alla fine deve far pensare molto. La notizia tra Pelola Stampa e la vita del capitano, tra l'altro impegnato su ogni fronte del cybercrime e della sua famiglia, fu stravolta. Ne ha pagato fortemente le conseguenze a livello personale, familiare, lui, la moglie, i figli. Insomma è stato un momento molto lungo e terribile. Il capitano Barbato non è mai stato sospeso, semplicemente posto in malattia. Ha avuto delle problematiche anche importanti che ad oggi sono risolte, però l'arma non lo ha mai sospeso dal servizio. Attualmente gli è stato proposto un incarico in un'altra regione, decisione che i legali chiederanno di rivalutare in sede amministrativa. Se il trasferimento era dettato, ritengo da quello che abbiamo letto, da motivazioni strettamente connesse a questa procedura, bisognerà capire se, visto l'esito, rimarrà in essere questo provvedimento oppure no.